Un saluto a tutti voi che seguite le trasmissioni di Fano TV. Ben trovati alla Rassegna Stampa, oggi è giovedì 20 aprile 2023. Iniziamo la lettura dei giornali a partire come sempre dall'almanacco del giorno. E vediamo il santo. Oggi si festeggia Santa Sara di Antiochia. Santa Sara visse ai tempi della grande persecuzione di Diocleziano, una delle più violenti che furono attuate durante l'impero romano, e morì purtroppo denunciata dal marito come vittima della persecuzione. Pensate, fu mandata al rogo insieme ai suoi due figli, questo a causa della denuncia del marito che l'aveva appunto individuata come cristiana. Anche lui un po' ancora retrivo dalla abbracciare la nuova fede. Questa è Santa Sara. Vediamo le previsioni del tempo. Il tempo rimane ancora incerto su tutta la regione Marche, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi però in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. I venti saranno al mattino moderati, al pomeriggio tesi, dal sud-est il mare è poco mosso e la temperatura si aggira tra gli 11 e i 17 gradi, presso a poco come ieri. Non fa molto freddo, ma non fa nemmeno troppo caldo. Quindi è una temperatura, diciamo così, primaverile. Dovremmo aspettare maggio per assaporare i primi tepori, veramente, e spegnere definitivamente gli impianti di riscaldamento. E quindi passiamo alla rassegna stampa vera e propria, aprendo la pagina del resto del Carlino, scusate, nella pagina di Fano. E vediamo subito un nuovo candidato per le prossime elezioni a sindaco della città della Fortuna. Chi è? È Luca Serfilippi. Adesso è la Lega che si sbilancia. Anzi, diciamo meglio, è il segretario della Lega che si sbilancia. Ancora questa candidatura dovrebbe essere formalizzata all'interno del partito, con gli altri alleati, insomma, c'è ancora molta strada da fare. Elezioni 2024. La Lega rompe gli indugi. È Serfilippi il nostro candidato. L'annuncio è stato dato dal coordinatore cittadino Alessandro Brandoni, mentre Forza Italia continua a puntare però sull'assessore Aguzzi. Intanto Fratelli d'Italia sta alla finestra. Al momento non abbiamo nomi spendibili. L'incognita è quella di De Leo, l'ex direttore generale del comune di Fano. Quindi al momento abbiamo due candidati. Samuele Mascarin, per quanto riguarda il centro-sinistra, lui ovviamente ha premuto per le primarie, ovviamente non è il candidato di tutto il centro-sinistra, ma è uno che si è proposto e quindi è un nome riferibile. E quest'altro adesso è Luca Serfilippi, il giovane consigliere regionale che ha fatto una carriera politica veramente strepitosa. E' stato prima consigliere comunale, poi assessore nella giunta Aguzzi e poi ha vinto con un numero molto molto alto di preferenze il suo seggio nel consiglio regionale. Ed ora fa parte anche delle commissioni, quindi ha delle responsabilità anche di carattere amministrativo. E quindi Luca Serfilippi è il nuovo candidato. Questo è l'articolo di apertura del resto del Carlino. Vediamo ancora le polemiche che ha suscitato la presentazione del nuovo piano regolatore generale che si è svolta l'altro giorno nella sala riunioni del Marine Center da parte della giunta. Presente il sindaco Massimo Seri, ma la relazione principale l'ha fatta ovviamente l'assessore all'urbanistica e il vice sindaco Cristian Fanesi. PRG piovono critiche, ma intanto non sarà approvato. Questa è un po' la tesi dell'opposizione. Un PRG, la giunta Seri, che non riuscirà ad attuare. Questo è quanto crede Fratelli d'Italia. I tempi in realtà sono veramente stretti. Il percorso burocratico per approvare un provvedimento così importante, così complesso è irto di difficoltà. C'è l'approvazione del Consiglio Comunale, poi ci sono le osservazioni, le contradduzioni, l'approvazione da parte della Regione, la riaduzione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Insomma, c'è ancora molta strada da percorrere. Il dubbio che il PRG non riesca ad essere approvato prima della fine della legislatura serpeggia anche all'interno della maggioranza. L'iter è troppo lungo e complesso per essere completato. L'amministrazione, fanno notare, e i rappresentanti di Fratelli d'Italia, termini la sua attività. e le amministrative imminenti non sarebbero il periodo migliore per caricarsi di eventuali critiche e polemiche. Ci sono anche riserve da parte del Movimento 5 Stelle, che stronca il piano regolatore che è stato presentato, dicendo quello che doveva essere un PRG green porterà una gigantesca colata di cemento sulla città per oltre 3 milioni di metri quadri. e questo nonostante che rispetto al PRG vigente il nuovo piano regolatore ha tagliato in maniera considerevole circa 27-30% le superfici residenziali, quindi un taglio c'è stato, ma non sufficiente da parte per quanto riguarda le considerazioni del Movimento 5 Stelle. In questa seconda pagina, in apertura, vediamo una polemica. C'è stata una diatriba tra l'onorevole Mirko Carloni e il direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti. Brodetto è il termine del dissidio, insomma, della contesa, il festival del brodetto. Festival avvelenato, lite social tra Varotti e Carloni. Che cosa è accaduto? È accaduto che il presidente, il direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti, considerando un po' i dati che ha rilevato l'Università di Urbino, facendo uno studio sull'impatto economico esercitato dal festival, per quanto riguarda le presenze dei turisti, dei residenti al festival stesso, ha detto che quei dati non sono molto credibili. Questo ha detto Varotti. Perché? Perché, insomma, è difficile capire se veramente le persone che erano presenti negli alberghi erano venuti per il brodetto oppure per altre attrazioni che fanno, ovviamente, esercita. C'è l'attrazione balneare, quella culturale, quella paesaggistica. Insomma, ci sono tante attrazioni e poi è difficile scendere veramente tra quelli che vengono da fuori e quelli che sono residenti. Insomma, non era credibile. E di mezzo c'è andato anche l'onorevole Mirko Carloni, che invece ha lodato, ha approvato, insomma, questo festival, concorrendo poi alla sua promozione, tant'è che si saranno anche due grandi eventi a cui parteciperà il festival fanese, uno a Barcellona e uno a Londra. Il direttore della Confcommercio attacca l'onorevole Carloni dopo la presentazione della Kermesse. Contestavo i dati dello studio, non certo le dichiarazioni dell'onorevole, si giustifica il primo. E il deputato risponde un comportamento di cattivo gusto. Ecco quindi la diatriba, che rimane così sospesa, ovviamente si stempererà. Torna l'Adriatic Green Trail. 200 cicloturisti tra 30 borini. Questa è veramente un'iniziativa concreta, che porta 200 arrivi nella nostra città. Sono cicloamatori appassionati della bicicletta, ma appassionati anche delle escursioni per scovare nuovi e interessanti paesaggi. Ebbene, a queste persone, l'assessore alla cultura, Cora Fattori, l'assessore del Comune di Fano, regalerà un biglietto omaggio per visitare il museo. E quindi ecco che si approfitta della situazione per fare una giusta e considerevole promozione. A questa presentazione dell'iniziativa c'era anche ovviamente l'assessore allo sport, Barbara Brunori, che ha così commentato favorevolmente questa iniziativa, che già è stata sperimentata l'anno scorso e ha ottenuto notevoli risultati. Si tratta di un viaggio di tre giorni in sella alla bicicletta, che nel ponte da domenica 23 a martedì 25 aprile, che è festa, porterà 200 turisti a scoprire il nostro mare, le nostre colline, con tre itinerari che attraverseranno più di 30 borghi della provincia. Quindi non solo Fano, perché poi il connubio tra Fano, l'entroterra, la collina, le valli è veramente un connubio vincente. Giriamo la pagina, vediamo invece quello che si sta facendo a Pergola. tra Pergola e Fabriano. La Pergola-Fabriano in recupero, pronti a riattivare il treno turistico. Guardate che sbancamento di lavori stanno facendo. Il ripristino della ferrovia Pergola-Fabriano è molto importante, perché un domani, chissà, potrebbe costituire un notevole collegamento anche per andare a Roma. Ingenti lavori si stanno facendo sulla rete ferroviaria dopo i danni provocati dall'alluvione. Un intervento totalmente finanziato dalle ferrovie dello Stato. L'assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, dice, in corso anche l'automazione dei passaggi a livello per creare meno disagi possibili alla viabilità ordinaria. Si tratta poi di una buona occasione per lo sfruttamento commerciale della tratta. Ecco dunque una infrastruttura che deve essere così valorizzata al meglio e lo si sta facendo. Sulla pagina di Urbino rileviamo come il professor Coccioni è stato classificato al 56esimo posto tra i migliori scienziati appunto italiani esperti della Terra. Si conferma così il professore Urbinate in totale sono 206 quindi una 56esima posizione è certamente molto molto pregevole. Chi è il professor Coccioni? Rodolfo Coccioni è un professore onorario dell'Università di Urbino. È geologo, paleontologo, divulgatore scientifico e saggista dal 2012 al 2015 è stato presidente della Società Paleontologica Italiana attualmente è presidente dell'Associazione Italiana di Geologia Medica e direttore dell'osservatorio scientifico Pianeta Terra quindi posti di rilievo di grande importanza. E poi vediamo una nuova generazione in questo articolo di Spalla una nuova generazione di manager Giovani economisti sul campo l'Università di Urbino incontra le aziende 30 studenti del corso di laurea in Economia e Management guidati dalla professoressa Elisabetta Savelli hanno visitato il landificio Carialgi di Cagli una prestigiosa realtà industriale del nostro territorio e questo connubio stretto questo rapporto tra università e poi aziende chi lavora sul campo è estremamente importante per ancorare la parte teorica alla parte pratica giriamo ancora la pagina vediamo che a Cagli c'è malumore tra i commercianti per i posti al mercato c'è stato uno scambiamento di posizioni e questo ha determinato proteste malumore al mercato del mercoledì il comune ha scombinato i posti chi da mezzo secolo era sempre nello stesso posto e quindi pensate la clientela abituata a trovarlo in quel posto ora si trova un po' spaesata perché non sa più dove trovarlo e ora si punta ad un'area marginale meno in evidenza e quindi un po' più discosta non certo gradita ai commercianti stessi eppure abbiamo pagato hanno detto quest'ultimi ovviamente e l'occupazione del suolo pubblico ma nella pagina degli spettacoli oggi del resto del carlino c'è un bell'articolo che riguarda i nuovi personaggi che parteciperanno al Festival Passaggi ebbene Festival Passaggi ci ha abituato a presenze prestigiose quest'anno sono più che prestigiose queste presenze una di queste è lo storico Franco Cardini probabilmente il nome non dice molto a tante persone ma guardate questo volto lo avete visto spesso in televisione è un professore di storia che conosce benissimo e argomenta molto bene il periodo di cui tratta è veramente un grande un grande uomo di cultura lo storico Franco Cardini è uno degli intellettuali europei più apprezzati il quale presenterà al Festival Passaggi le vie del sapere edito dal Molino e poi ci sono anche altri personaggi importanti per esempio il premio giornalistico Andrea Barbato sarà assegnato alla giornalista Lucia Annunziata e chi non conosce Lucia Annunziata che porterà a Fano il suo ultimo libro L'inquilino da Monti a Meloni indagine sulla crisi del sistema politico e poi ci sono tanti altri personaggi in questo articolo che vi invito a leggere personaggi famosi anche al cinema anche al cinema Masetti il figlio di Sean Penn e la figlia di Rosanna Arquette saranno a Fano per presentare il loro film Hopper Jack Penn e Zoe Blais-Siedel protagonisti di Signs of Love saranno al cinema Masetti il mercoledì 17 maggio alle ore 20.45 ebbene non sono i loro genitori che sono certamente più famosi ma sono i loro figli ebbene conoscere un po' quest'ambiente conoscere le loro interpretazioni conoscere i rapporti poi anche familiari sarà interessante e quindi ci saranno molte persone a vedere questa politica anticipata da questo incontro sulla pagina di Pesaro ho segnalato questo articolo per quanto riguarda i cantieri della città Pesaro ormai è una città in pieno cantiere ci sono un po' cantieri dappertutto vedremo poi anche sul Corriere Adriatico quelli che si annunciano Pesaro città dei cantieri zona stazione cambia tutto dal Cavalcavia de Sabbat al sottopasso dei Caponcini ma non solo ecco gli interventi in programma in ballo ci sono 20-20 milioni veramente ci sono tanti e poi ne parleremo e poi una notizia di Cronaca perseguitava una ragazzina di 14 anni un trentenne è stato condannato per stalking il giudice ha stabilito anche un risarcimento danni per 60 mila euro un risarcimento piuttosto considerevole in favore della vittima e dei genitori l'uomo intanto era stato portato in psichiatria e poi messo agli arresti domiciliari da dove era fuggito la ragazza all'età appunto del misfatto aveva 16 anni anzi era minorenne ed aveva 16 anni più giovane del 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 persecutore dell'uomo che ha fatto questo stalking si tratta di un trentenne pesarese contro il quale si è chiuso il processo di primo grado con la condanna a tre anni di reclusione tramite il rito abbreviato ed ora diamo un'occhiata al eccolo qua al corriere adriatico nuova macchina comunale cancellato il capogabinetto il comune si ristruttura si adegua un po' alle così ai meccanismi un pochino più agili che cosa è accaduto vi ricordate quello che era accaduto quest'estate quando ci sono state polemiche nei confronti del capogabinetto poi una dimissione concordata con il sindaco e tutto ebbene lasciata stemperare le cose ora si è ristrutturato in maniera formale un po' un po' tutta l'organizzazione che cosa è accaduto è accaduto che il capogabinetto non sarà più un dirigente del comune di Fano e sono state un po' divise le competenze vediamo che le competenze di carattere programmatorie ma anche alcune gestionali sono state date in capo al segretario comunale ovvero a Stefano Morganti in realtà poi abbiamo un dirigente che ha svolto sempre con grande competenza il suo lavoro ed è l'ex capogabinetto ovvero Pietro Celani ma in questo caso è stata così creata un'area complessa di affari generali con a capo un dirigente che dovrà essere nominato dal sindaco ma ovviamente niente ovviamente c'è una scelta già in fieri ma quindi questo ancora non si dice verrà attribuita una serie di competenze a questo nuovo dirigente che sarà responsabile di questa area un'area che comprende un po' anche una supervisione di altre dirigenze ebbene a lui le competenze saranno quelle delle risorse umane ovvero del personale del comune quelle amministrative tecnologiche la gestione amministrativa della vocatura comunale le società partecipate gli appalti ai contratti i servizi educativi e poi i servizi culturali e quelli del turismo quindi un'area veramente composita che questo dirigente dovrà coordinare al fine di rendere più agevole spedito tutti i provvedimenti che verranno assunti dall'amministrazione comunale una bella iniziativa del Rotary Club di Fano che aiuta la mensa dei poveri a casa serena una serata conviviale del Rotary alla mensa di via Malvezzi e il tradizionale incontro dei soci ha fornito l'opportunità di consegnare un contributo al centro di accoglienza che è sempre operativo e poi anche sul Corriere Adriatico abbiamo un ritorno sul piano regolatore che taglia l'espansione edilizia qui abbiamo i numeri con i quali si riduce appunto l'occupazione del suolo e poi abbiamo anche le prese di posizioni critiche del Movimento 5 Stelle che ovvia ovviamente in maniera ovvia contrasta le scelte che sono state fatte dall'amministrazione comunale anche il Corriere Adriatico evidenzia l'Adriatic Green Trail che si svolgerà da domenica a lunedì in tutto il nostro territorio in tutta la provincia e poi abbiamo un articolo che riguarda Monteporzio Monteporzio festeggia 102 anni ormai 100 anni non sono più niente si passa tranquillamente oltre ai 100 anni guardate questo 102 come viene bene ostentato nel balcone della casa di questa signora si tratta di Michelina Testaguzzi che va tranquillamente al supermercato fa la spesa è tranquillamente autosufficiente qual è il segreto della sua tarda età lo si chiede sempre lei dice non ho mai fumato sigarette ho mangiato cibo sano evita salutare la ricetta semplice con una fede incroda incrollabile veramente questa fede l'aiuta molto nella sua vita quotidiana guardo un po' di televisione seguo i programmi di intrattenimento a carnevale mi sono divertita a cucinare i dolci tipici come le cresciarelle mi pare ci ho messo 15 uova per quanto riguarda Senigallia invece abbiamo una notizia che riguarda Serra dei Conti in modo particolare si tratta di una casa di accoglienza per migranti che non viene ben vista dalla popolazione residente nell'hotel comunque non ci saranno più di 50 migranti sono tutte famiglie così ha assicurato il prefetto un percorso che deve essere condiviso c'è stato un vertice sull'accoglienza a Serra dei Conti Pellos lavoreremo per gestire al meglio la situazione così ha dichiarato vediamo anche qualche notizia di Pesaro sulle Corriere Adriatico l'apertura è sempre dedicata ai lavori pubblici come ho detto prima Pesaro è in grande fermento in occasione poi dell'anno in cui sarà capitale nazionale della cultura ebbene stazione in partenza il trittico dei cantieri lavori per 20 milioni e abbiamo visto l'articolo anche sul resto del Carlino una nuova stazione del treno a metà maggio via ai lavori e quest'estate il varo del ponte sul Foglia e poi la messa in sicurezza del cavalca ferrovia 3 milioni di euro e poi ancora la riqualificazione del sottopasso ferroviario per 745 mila euro anche in questo caso con fondi statali e poi via ancora via dell'Acquedotto chiesa dei Capuccini un investimento complessivo di 20 milioni di euro annunciato ieri dal sindaco Matteo Ricci terremoto chiese senza soldi e fuori dello stato di emergenza mentre il comune di Pesaro investe c'è chi dovrebbe dare dei contributi per risollevare un po' il territorio dai danni che il terremoto ha provocato ma in realtà questi fondi sono del tutto insufficienti i luoghi di culto lesionati per ora restano chiusi i timori di Biancani che attacca la regione in questo primo stanziamento ha detto appunto Biancani non dovrebbero rientrare i luoghi di culto e gli edifici religiosi proprio ieri è stato appreso che il decreto del governo sul riconoscimento dell'emergenza deve essere ancora deve ancora definire i luoghi esatti in cui bisogna intervenire ma da questi sembra che siano esclusi appunto i luoghi religiosi Pesaro città del mobile ospiterà i scioperanti che i lavoratori in sciopero che dopo tre anni danno ancora più evidenza al loro stato uno stato critico per quanto riguarda la difficoltà del lavoro dopo tre anni domani il corteo dei sindacati con partecipanti da Marche Umbria Abruzze e Molise giungeranno a Pesaro e manifesteranno per ottenere condizioni migliori di lavoro vediamo anche la pagina di Urbino una buona notizia Magalotti è tornato a operare nell'ospedale di Urbino ecco qua Foschi la breast unit deve rimanere l'assessore Elisabetta Foschi il senologo martedì ha operato ha fatto sei interventi ma il suo futuro professionale resta un'incognita comunque al momento è presente nella città di Urbino così come avevano appunto richiesto tanti tanti abitanti e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto